Ed eccoci qua, è terminata da pochissimo l'ultima, la sedicesima giornata che avrebbe deciso chi sarebbe passato ai quarti di finale della New Japan Pro Wrestling e il torneo LG One Climax 2023. Io sono Stefano, una delle voci di Lariatto, vi sto raccontando il Climax da qui, da questo canale, il lato vero del ring, e sto cercando di portarvi quanti più contenuti possibili per cercare di aiutarvi. Vado ad avere chiaro ciò che sta succedendo e ovviamente per tenermi anche io in pari con quello che sta accadendo. Oggi, giornata importante, si decretavano gli ultimi due ad accedere ai quarti, i quarti che si svolgeranno domani. Quindi, domani pomeriggio tecnicamente dovrà riuscire a vedere e venerdì mattina dovrà riuscire a pubblicare anche il report dei quarti di finale. Poi, 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 ho deciso che sostanzialmente farò un altro contenuto e basta che riguarderà semifinali e finali. Dato che io comunque sto seguendo solo i match del torneo, non sto guardando i vari match di coppia, trios che ci sono all'interno delle card. Semplicemente non ho abbastanza tempo per fare, dato tutto quello che sto seguendo nel mondo del wrestling e non solo, per cui portate pazienza. Vi parlerò, quindi, oggi dei match che hanno visto le giornate 15 e 16, quindi il giorno 8 e 9 di agosto. Il prossimo contenuto sarà un contenuto che riguarderà solo i quarti, quindi quattro match. E poi vi parlerò, ovviamente, di semifinali e finali in un unico contenuto che chiuderà tutto. Nel frattempo, stiamo guardando anche N1 Victory, stiamo guardando anche il Five Star della Stardom. E stiamo seguendo anche la Cup della Tokyo Joshi, quindi uscirà un sacco di roba che parla di wrestling in questo periodo, che parla di wrestling giapponese, che parla di l'Ariatto. L'Ariatto che sta un po' diventando un appuntamento quotidiano e anche di più. Oggi, per esempio, nella giornata di oggi, sono già usciti due contenuti. Uno riferito alla Stardom e a quattro delle prime cinque giornate, perché la prima l'avevamo già discussa in un altro contenuto, ma la seconda, terza, quarta e quinta giornate, ne abbiamo parlato oggi e Miki. Poi è uscito un l'Ariatto extra fatto da Miki e poi esce anche questo, che parla di due giornate del climax. Insomma, l'Ariatto super protagonista di questa giornata sul canale del Lato Velo del Ring. Quindi recuperate tutti i nostri contenuti, c'è un sacco, un sacco, un sacco di roba interessante. Ma partiamo dal giorno 15, cioè da ieri, e vediamo come sono andate le cose. Giorno 15 che aveva, insomma, alcune possibilità per risolvere la questione. Intanto Tomoiro Ishii si porta a casa un bel risultato, una bella vittoria contro un Miki Nichols che ha fatto un torneo onesto e che ora tornerà in Inghilterra, l'hanno detto durante il commento, che insomma partirà e tornerà subito a casa, quindi non si fermerà molto dopo la fine del climax. Anzi, addirittura forse non lo finisce nemmeno il climax, non arriva nemmeno al weekend con la finale. Tamatonga invece ha battuto Enara e qua comincia a svilupparsi qualcosina, perché se Tomoiro Ishii contro Miki Nichols era sostanzialmente un match di bassissima classifica, qua no. Perché qua Tamatonga con questa vittoria si porta in una buonissima posizione. Ovviamente si porta in una posizione dove, a nove punti, era praticamente lì per conquistare l'accesso ai quarti. Si trova a primo e quindi ha fatto un buon match con Enara, che secondo me è stato uno dei migliori all'interno di questo climax, dal punto di vista delle prestazioni, sapendo da dove parte ovviamente, non in generale, ma sapendo da dove parte, cioè dalle sue qualità di base, secondo me ha tirato fuori qualcosa di molto buono, di molto positivo in questo torneo. A questo punto quindi Tamatonga a nove punti si trova in una buonissima situazione. Qual è il problema? Il problema è che sotto c'è un David Finlay che si deve scontrare con un uomo che ha i suoi stessi punti, cioè Dickinson, otto punti, ed entrambi, se dovessero pareggiare, arriverebbero a nove. Quindi sarebbe un po' incasinato, un po' un problema. Ma se uno dei due dovesse vincere, passerebbe lui in quella fase sicuro e poi probabilmente Tamatonga. Il match tra Finlay e Kingston è un buon match, molto brawl, molto cattivo, molto forte. Si picchiano, si pestano. Io credo che Finlay abbia trovato la sua dimensione e Kingston si sia divertito come un bambino al climax. Con un rapporto vittoria e sconfitte comunque positivo e con una bellissima esperienza sulle spalle che credo si porterà a casa davvero come quel cimelio storico personale da raccontare in vecchiaia. Ed è bello. È bello perché Dickinson ha questo grande amore per il Giappone. Dickinson perde e a passare il turno quindi è sicuramente David Finlay, il quale si ritrova in una buona posizione da un punto di vista personale, no? In più ha una stable che comunque comincia a funzionare e ci ha fatto vedere cose interessanti quindi anche per, insomma, il futuro potrebbe essere davvero un contendente e niente male. In generale questo. E ci arriva bene. Ci arriva comunque con 5 vittorie che ha un buonissimo rapporto tra match disputati e vittorie conseguite quindi bene per David Finlay. Il problema invece sorge dopo perché ci sono Evil e Shingo Takagi che devono lottare e se Shingo Takagi dovesse battere Evil arriverebbe anche lui a 9 punti e anche lui si troverebbe in una condizione particolare perché sorpasserebbe Evil che è 8 e arriverebbe appena sotto a David Finlay già qualificato. Chi c'è a 9 punti? Tama Tonga. Cosa è successo tra Tama Tonga e Shingo? Il pareggio che li ha portati ad avere il punteggio dispari. Questo significa che l'annuncer dice se Shingo batte Evil ci sarà un match, spareggio, un ulteriore main event tra Shingo e Tama Tonga per decretare chi sarebbe passato al turno successivo. interessante, molto bello, anche se in questo caso Evil ha una truppa troppo grande, una truppa che si trova a lottare in qualche modo tutta insieme unita dopo un ref bump a rompere le scatole a uno Shingo che a un certo punto trova anche l'aiuto dei suoi compagni di Stable ma forse troppo tardi, forse sono troppi quegli altri dell'House of Torture e quindi in fondo quando tutto poteva diventare qualcosa di ancora più epico Evil rovina come sempre rompe le uova nel paniere e le balle nelle mutande e quindi eccoci qua, che Evil vince, arriva a 10 punti e ovviamente passa il turno insieme a David Finlay wow wow vabbè, Ibiru passa giorno dopo invece, giornata svoltasi oggi quindi spero di non dare spoiler se non avete ancora visto la giornata ci rivediamo più tardi dopo che avete guardato il climax Alex Cofflin batte Toruiano in un match in cui si fa aiutare anche un pochino da Gabe Kidd dove succedono un po' di cose ma alla fine riesce a vincere anche qua, match senza velleità di riuscire a passare il turno questo primo match della giornata sicuramente non era tra prime file, tra prime linee e quindi, che poi il problema è il climax se ci pensate, no? il problema del climax è che quando tu vai a guardare le card gli ultimi match delle card finali sono un po' i match che ti dicono chi arriverà a giocarsela ed è così, ed è così Jeff Cobb invece lotta contro Shane East e il match termina in un double count out quindi, dopo 4 vittorie consecutive da parte di Jeff Cobb due sconfitte consecutive da prima delle quali con Toruiano non l'ha digerita tantissimo e poi, terzo match, quando era sufficiente probabilmente andare a vincere l'incontro pareggia con Shane East che lo porta fuori dal ring insieme i due cominciano a lottare un po' fuori mentre l'arbitro inizia a contare e pian piano, quando Jeff Cobb, man mano si riesce, secondo lui, a liberare di Shane East Shane East, in qualche modo, egli prende una gamba, egli prende un ginocchio, egli prende un braccio fino a che l'arbitro, conta che ti riconta, arriva a 20 con il conto di 20, il match si conclude in un pareggio per double count out e a questo punto, a 9 punti, c'è Jeff Cobb cosa può succedere? beh, può succedere che nel match successivo Zack Sabre Jr. perda contro i Rocky Goto e quindi rimane a 9 punti un Jeff Cobb che può passare il turno qualora vincesse Zack Sabre, c'è comunque la possibilità che Naito a pari punti inizialmente con Cobb non vinca contro Tanashi, quindi Cobb può ancora passare e qualora ci fosse un pareggio da parte di Zack Sabre Jr., quindi arrivasse a pari merito con Jeff Cobb beh, tecnicamente Jeff Cobb ha vinto contro Zack Sabre quindi se guardassimo la classifica a Vulsa comunque magari c'è la possibilità di fare un ulteriore match e la cosa però va in realtà liscia per Zack Sabre Jr. che non è che non fa fatica, però batte Rocky Goto per sottomissione e quindi si porta 10 punti qualificandosi sicuramente per il passaggio successivo quindi per i quarti di finale l'ultimo match è quello tra Tetsuya Naito e Hiroshi Tanashi questo è un altro caso in cui se Naito pareggia alla fine ci sarà un extra match tra lui e Jeff Cobb ovviamente non si tiene conto di nulla perché Jeff Cobb aveva battuto Tetsuya Naito quindi in generale probabilmente anche se ci fosse stato come si dice Zack Sabre Jr. contro cioè insieme a Jeff Cobb a pari punti avrebbero dovuto fare un match supplementare il problema però non si pone neanche questa volta questa volta Tetsuya Naito batte Hiroshi Tanashi dopo 17 minuti abbondanti di contesa e si porta a casa non solo la vittoria di questo match ma anche il passaggio del turno che insieme a Zack Sabre Jr. raggiunge fin qui tutto bene fin qui tutto bene perché abbiamo finalmente le persone che hanno superato il turno e ora andiamo a vedere anche come sono state le classifiche finali di blocco C e blocco D blocco C vede passare David Finlay e Evil a 10 punti a 9 punti c'è Tama Tonga in solitaria sotto appena sotto è Dickinson con 8 Shingo si ferma a 7 Mikey Nichols Enar e Tomoeiro Ishi si fermano a 4 buono soprattutto per David Finlay che ha fatto un bel percorso buono per Tama Tonga che comunque ha lottato al meglio delle sue possibilità ed è stato molto tifato dal pubblico buono per Eddie Kingston per tutte le cose che abbiamo detto prima spiace per Shingo che purtroppo si è visto sorpassare male da un Evil che purtroppo è sempre lì nel cuore della dirigenza della New Japan e non si sa per quale cazzo di motivo perché fa veramente cagare ma è lì blocco D invece Zack Sabre e Tetsuya Naito dominano con 10 punti con un po' di fatica perché Jeff Cobb nei primi 4 match aveva dato il bianco poi si è un po' fermato e alla fine l'ha pagata sotto tutti quanti gli altri Hiroshi Tanashi e Rocky Goto insieme ad Alex Cofflin a 6 punti 5 punti per Shane East e 4 per Toruiano direi che è andato abbastanza liscio anche questi due gironi ma vediamo come sarà l'accoppiamento che domani vedrà coinvolte le persone che si giocheranno nei quarti finali allora nei quarti finali abbiamo Sanada contro Ivole in un match che sicuramente risveglia anche Faida e Suppite i due erano insieme in coppia poi hanno fatto Faida uno contro l'altro poi adesso si ritrovano in questa situazione Ivole era diventato campione dopo aver mollato la Faida con Sanada e ora a parte inversa c'è Sanada campione un Ivole che potrebbe andare per il titolo qualora riuscisse a vincere il torneo ora io mi auguro fortemente che Sanada ne esca vincitore e che vada a tirar fuori dai guai il discorso di Ivole Ivole potrebbe vincere attenzione però perché se se la giocano un po' all'americana potrebbe arrivare qualcosa contro Ivole da parte di Shingo e la sua banda chissà chissà come hanno deciso di gestirsela Okada invece se la vedrà con Zack Sabre Jr. in un match che è sempre molto bello da vedere e quindi ce lo godiamo senza nessun problema senza nessuna difficoltà capiremo perché questa cosa mi sfugge se anche ai quarti finali ci sarà il time limit a 20 minuti sarebbe molto interessante capirlo lo capisco domani mentre lo vedo e poi dopo ne parliamo domani sicuramente però Kada contro Zack Sabre Jr. è sicuramente buono interessante mi interessa molto anche David Finlay contro Will Ospreay perché David Finlay potrebbe anche fare lo sgambetto a Will Ospreay Will Ospreay non ce lo vedo tanto ad andare a vincere questo torneo quindi vediamo vediamo potrebbe essere la sua occasione ma anche no perché lui ha già un altro titolo quindi non lo so al momento io beh ve lo dico tra poco Tetsuya Naito contro I Kuleo se fanno le cose come si devono fare I Kuleo torna a friggere le patatine al McDonald mentre Naito va avanti a lavorare al climax Naito al momento è il mio favorito per la vittoria finale mi piacerebbe vedere Naito contro Sanada senza dubbio per il titolo so già che qualcuno direbbe sì che palle però ancora Naito è che il problema è che tra tutti questi che sono arrivati qua l'unico veramente nuovo da provare a mandare un po' in alto sarebbe David Finlay non ci penso neanche ai Kuleo ma non mi entra nemmeno e David Finlay potrebbe davvero io aspetterei un attimo cioè tipo a David Finlay farei vincere che ne so la Cup la primavera prossima per andare poi a provare l'assalto al titolo diversamente no credo che potrebbe essere credo che potrebbe essere interessante comunque tra quelli rimasti Naito nonostante tutto nonostante un po' di reticenza da parte di qualcuno io lo farei me la giocherei bene direi che anche per oggi è tutto ci risentiamo domani o massimo dopo domani mattina con una nuova review stavolta per i quarti di finale parleremo di 4 match di come sono andati e di come si svilupperanno anche le semifinali cercheremo ancora di stringere i nostri pronostici e vedere se rimarranno su due dei miei favoriti che sono Finlay e Naito per questo climax del 2023 che ci sta divertendo tanto continuiamo continuiamo a seguire in modo legale con New Japan World nel modo più corretto possibile costa veramente poco abbonatevi supportate il wrestling perché è l'unico modo che abbiamo per continuare a vederlo e goderne come quando eravamo bimbi e come quando saremo dei vecchietti che cercheranno ancora di guardare i match e diranno io quando ero giovane che belli quei momenti grazie davvero di cuore per aver seguito lasciate un like lasciate un commento fatemi sapere se vi sta piacendo questo climax io non posso far altro che ringraziarvi e darvi appuntamento alla prossima che ringraziarvi